Serata di paura per la famiglia di Stefano, proprietaria dello storico maglificio Granzasso a Sant'Egidola Vibrata nel Teramano. Almeno tre persone hanno fatto parte infatti del commando che martedì dopo cena ha assaltato la loro villa da Scolipiceno nella zona di Campoparignano. Al momento dell'irruzione dei banditi erano presenti otto persone e tutte si trovavano in giardino. Improvvisamente dal nulla sono comparse tre ombre. I malviventi erano vestiti di nero armati di pistola e parlavano attraverso radiotrasmittenti probabilmente con altri complici rimasti all'esterno della villa e pronti alla fuga. Gli otto familiari, tra cui un'anziana e alcuni ragazzi, sono stati costretti sotto la minaccia delle armi a rientrare in casa. A quel punto i malviventi hanno chiuso tutte le tende e si sono fatti consegnare soldi e gioielli. Il bottino è in fase di quantificazione ma si aggirerebbe sui 60.000 euro. Una volta preso quello che volevano, sono scappati. Un'azione rapida portata a termine con decisione alla quale i padroni di casa non hanno posto resistenza, consegnando loro quanto richiesto. Nessuno è rimasto fortunatamente ferito durante la rapina, a parte il notevole spavento per l'improvvisa irruzione e la presenza delle armi puntate addosso. Una volta dato l'allarme sul posto sono arrivati gli agenti della questura. Le indagini sono coordinate dalla procura di Ascolipiceno che proceda al momento per sequestro di persona e rapina aggravata. Un fascicolo aperto contro ignoti. I polizzotti stanno raccogliendo i racconti dei presenti a Villa di Stefano e acquisendo le immagini delle telecamere di sicurezza interne ma anche della zona. Un assalto simile a quello avvenuto a gennaio di quest'anno nella villa di Montesilvano dell'imprenditore della pasta Saturnino De Cecco. Vittime della rapina anche la moglie dell'uomo originaria di San Benedetto del Tronto e la figlia della coppia. Anche in quel caso la banda era riuscita a darsi alla fuga con un bottino ingente.